Ben ritrovati, andiamo a Milano perché si brinda a Salentino alla Milano Fashion Week. Guardate. Alla Milano Fashion Week i Salentini sono protagonisti in passerella e ai parti esclusivi del post sfilata. Il Cesegno Capasa, creatore del marchio Costume National, applauditissimo come sempre, ha scelto per brindare con i suoi ospiti le bollicine Salentine di Cantine Due Palme. Durante la festa del brand, gli invitati internazionali hanno ammirato le creazioni di Capasa, assorseggiando quelle delle cantine di Cellino San Marco. Due eccellenze del Salento che fanno squadra e decidono di stare insieme. Un modo interessante per esportare il brand Salento nel mondo, ha detto il presidente Angelo Maci, che però non smette di celebrare l'arte della vitivinicoltura anche a casa propria, aprendo la cantina, come vuole la manifestazione e cantine aperte in vendemmia del movimento turismo del vino. Accompagnati dal sottofondo della musica della tradizione, per un giorno intero gli ospiti hanno degustato i vini, passeggiando al fresco della cantina, scoprendone ogni angolo e segreto. Anche quest'anno abbiamo aperto le porte a cantina aperte in vendemmia, perché siamo agli sgoccioli di una vendemmia veramente molto molto bella, sotto l'aspetto qualitativo abbiamo fatto dei prodotti veramente straordinari. Scoprendo quella che è la bellezza soprattutto, perché siamo ancora in vendemmia, facciamo vedere come arriva l'uva, come viene trasformata, come viene vinificata, il periodo della macerazione, facendo vedere un po' tutte le fasi per far ottenere poi il vino. Assolutamente, vanno tutti.